Undicesima giornata di seconda categoria Siamo giunti così al termine dell'andata Le temperature sono molto basse Ma dentro i campi, in quest'ultimo match del 2014 Si aspetta una giornata caldissima Altipiani Vigolana, non fatevi ingannare Le ultime due della classe vorranno farsi valere Audace Ischia Il big match di questa giornata Per annuncia un incontro mozzafiato Giovo l'Onalazes Due punti le separano Sarà sorpasso o allungo? Oltreversina Primero Il distacco è ridotto a un punto Vediamo chi avrà le ultime energie per spuntarla Valsugana Roncegno Vincere il derby per dare un senso a questo campionato Il tesino anticipa così le vacanze E ci dà appuntamento al 2015 Undicesima giornata di seconda categoria Chi sarà con la testa già alle vacanze? Chi sarà invece ancora in clima campionato? Signore, oggi si farà la storia!